C'è chi non riesce più a pagare le rate di finanziamenti, chi le bollette di luce e gas, chi ha visto decurtarsi le entrate per la perdita parziale o totale del lavoro a causa della pandemia da Covid e chi addirittura ha chiesto prestiti per alimentare il vizio del gioco. È un universo variegato quello che può mandare in cortocircuito il bilancio delle famiglie abruzzesi fino alla paralisi. Gli ultimi interventi del Fondo di Prevenzione del Sovraindebitamento gestito da Di Consum, una costola della Cisla, hanno salvato tre nuclei familiari dalla bancarotta e soprattutto dal rischio usura. Fenomeno perverso che porta a pensare come il prestito facile sia l'unica speranza che l'usuraio diventi l'unica persona che ti tende la mano. La scommessa da vincere è recuperare le famiglie prima che cadano in mano gli usurai, che sappiamo in Abruzzo essere presenti in modo nascosto, velato, ma c'è, l'usura c'è, non dimentichiamo questo. È difficile capire dov'è, perché si ha timore a parlare di usura, ma l'usura è presente e quindi gli sportelli come i nostri offrono un aiuto alle famiglie sovraindebitate. I fondi vengono messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi ci sono le regole, bisogna naturalmente avere l'effettivo stato di bisogno. La capacità di rimborsare questo prestito, perché non dimentichiamo, va rimborsato in sette anni comodamente, in dieci anni il tasso bassissimo, il 2% però va rimborsato. Poi si chiede alle famiglie di rivedere i comportamenti, l'uso responsabile del denaro. Nel 2020 in Abruzzo lo sportello anti-usura ha estinto i debiti di decine di famiglie e con l'emergenza economica in atto la situazione si è ulteriormente aggravata, ancora con raro. I fondi erogati complessivamente superano il milione e duecentomila, il trend è sicuramente in crescita, si chiude l'anno in crescita. Purtroppo il Covid ha creato maggiori problemi alle famiglie, insomma è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo farcela, dobbiamo farcela tutti insieme. Il problema sovraindebitamento e usura è un problema che colpisce i redditi, colpisce le famiglie, colpisce la società. Quindi tutti insieme, la politica, le reti sociali devono prendere atto di questo problema. Il sovraindebitamento c'è, l'usura c'è, lo sappiamo, prendiamone atto e combattiamole.